Aveva in mano il coltello, mi ha detto dammi i soldi se no ti ammassi. Era uscito dal carcere a giugno e in carcere è tornato ieri sera per lo stesso reato. Viso scoperto, coltello in mano, un 64enne di Lipomo ha cercato di rapinare il negozio Jonas Wave di Via De Cristoforis, vicino alla caserma dell'esercito italiano. L'uomo che stava dietro al bancone, marito della titolare, non si è fatto intimorire. Ha impugnato un bastone, pronto a difendersi qualora il 64enne avesse cercato di fargli del male. Il rapinatore però era disperato a tal punto da dire di voler tornare in carcere, così il commesso ha chiamato la polizia. Le volanti sono arrivate in un attimo e hanno portato via il 64enne di Lipomo, arrestato per tentata rapina e trasferito al carcere Bassone. Ecco la testimonianza dell'uomo che l'ha fronteggiato. Poi io avevo un bastone qua che ho preso, mi fa stelire, se tu avvicini io ti ammassi. Mi fa ti ammassi io perché io ho il cattello. E allora ho provato a parlare con lui, cosa vuoi da me, lui mi fa chiama la polizia perché io voglio andare in galera. Tutti qua, poi io l'ho chiamato la polizia perché dopo è stato calmato, io l'ho chiamato la polizia. Cerca due o tre minuti è arrivato la polizia, l'hanno portato via tutti qua.